Ciao a tutti ragazzi, questo è il nostro nuovo canale, io sono Blaine e io sono Drake. Bella a tutti ragazzi, bentornati nel nostro canale. Dopo quasi un anno di attività abbiamo deciso di ritornare in carreggiata con nuova veste e nuovi propositi per portarvi anche con più frequenza nuovi contenuti. Questi contenuti saranno principalmente videoacquisti e unboxing correlati insieme, gameplay, tutorial e AMV che avrà cura il nostro video. Come potete vedere i nuovi cambiamenti sono stati fatti sia alla grafica del canale, quindi al logo e alla copertina, sia al nostro nome. Abbiamo deciso proprio di rinnovare tutto. E con questo speriamo che questi cambiamenti e i nuovi contenuti che cercheremo di portare con questa maggior frequenza siano di vostro gradimento. E noi ci vediamo al prossimo video! Ciao!